Lino Banfi a ballando. A convincerlo non è stata Millie, rivelazione clamorosa. Lino Banfi. A convincermi a fare ballando è stata mia moglie Lucia Dallassù. C'è grande attesa per la partecipazione di Lino Banfi a Ballando con le stelle, che partirà sabato 21 ottobre, sulla pista che di recente è stata calcata dalla figlia Rosanna, ora a danzare sarà dunque lui. E di questa nuova esperienza l'attore ha parlato ultimamente, rilasciando alcune dichiarazioni alla stampa, riprese e rilanciate dall'ultimo numero del settimanale di più, uscito in edicola sabato. Ho detto di sì a Millie Carlucci perché Dallassù mia moglie Lucia è riuscita a convincermi, ha detto, ricordando che non è la prima volta che lavora con la Carlucci. Proprio lei, infatti, ha interpretato sua nipote nel film, Pappa e Ciccia, dalle cui riprese sono rimasti sempre molto legati. Lino Banfi da tempo non era così vitale, la rivelazione del settimanale di più. Secondo la rivista citata nel primo paragrafo, l'attore che in un medico in famiglia ha interpretato nonno libero non è mai stato così pieno di vitalità come in questo periodo, Lino ha l'energia di un ragazzino, afferma infatti la rivista. Millie mi ha tormentato come un martello pneumatico, ogni anno con costanza, dolcezza e grazia, chiedendomi di partecipare alla sua trasmissione. Ha rivelato Lino, non nascondendo di aver sempre declinato l'invito di fare ballando con le stelle per timore di farsi giudicare. Non sono più giovanissimo, le dicevo, mi muovo poco perché ho fatto teatro, ha svelato inoltre. Lino Banfi a proposito dei tanti rifiuti degli anni, scorsi di partecipare a ballando, ha dunque rivelato chiaramente di aver trovato sempre tante scuse ma la vera ragione è stata la paura. L'appello di Lino Banfi a tutti i nonni, fate come me, buttatevi. Nonni, fate come me, buttatevi, ha detto successivamente Lino Banfi, sottolineando di non aver mai fatto ginnastica e non aver mai assolutamente preso lezioni di danza. Sarà un po' un salto nel buio il suo, quindi, sulla pista del programma condotto da Millie Carlucci, dove la figlia Rosanna se l'è cavata egregiamente nell'edizione alla quale ha partecipato. Insomma, il cast di Ballando con le stelle è ormai al completo da giorni, e chissà che per Lino dopo l'esperienza nello show non si riaprano anche le porte del set di un medico in famiglia, dato che alcune settimane fa si è parlato della reale possibilità che la Rai si decida finalmente a realizzare l'attesissima undicesima stagione, nella quale i fan sperano ormai da anni e anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.